Sempre azione della Virtus Castelfrentano, conduciamo per 9 a 0 contro il rapino calcio che annovera molti ragazzini anche del 2008. Ecco un'azione in aria, colpo di testa ha segnato Andrea Nasuti, il decimo gol, il numero 14 Andrea Nasuti con un bel colpo di testa quasi all'incrocio dei pali. Ci troviamo con 10 gol all'attivo. La formazione scesa in campo dei ragazzi di mister Giovanni Di Giulio e questa, numero 1 Dania Lucci, numero 2 Federico Di Donato, numero 3 Nicola Tenaglia, numero 4 Nicolò Dancero, numero 5 Manuele Caporale, numero 6 Simone Pellegrina, numero 7 Franco Di Fresco che è rientrato dopo. Ecco, contropiede, Ramunti, Ramunti, traversa, traversa, riprende Enrico, Enrico riprende, Enrico si gira, si allarga, prende la mira, ma tira e viene ribattuto da un difensore. Ancora Enrico, Gabriele, ecco Gabriele, un bel traversone che si porta Ramunti, ha fischiato il fuorigioco, l'arbitro. Allora continuiamo la formazione, numero 8 del bello Riccardo, numero 9 Larne Emanuele, numero 10 Luca Rulli, numero 11 Alex Maramieri. dodicesimo, secondo portiere, esordio di un ragazzo degli esordienti, Massimini Diego Pio, numero 13 Manuel Berardi, un altro esordio, sempre degli esordienti, che oggi è stato convocato da mister Giovanni, insieme a Diego Pio Massimini. numero 14 Andrea Nasuti, anzi rettifico, numero 16 Andrea Nasuti, numero 14 Gabriele Gian Cristoforo, numero 15 Di Fresco Matteo. guardalinie è Mammarella Alex, il mister Giovanni Di Giulio, l'addetto all'arbitro è mister Gabriele Di Felice, il dirigente accompagnatore e il sottoscritto Cavaliere Carlo Iocco. ci troviamo 10 a 0, se non erro.